Buongiorno, sono Sergio Bandirali, Product Manager della Iungaric Italiana. Ci troviamo nell'area Energy Systems dell'Innovation Campus, un evento creato dalla Iungaric Italiana sull'innovazione nel campo della intralogistica. Ho il piacere di mostrarvi l'ultimo nato negli stabilimenti di Hamburgo. Vincitore FOI 2018 in termini di efficienza e flessibilità, il nuovo SLH300 carica batteria ad alta frequenza, con la sua costruzione modulare, dispone di molteplici curve di carica che lo rendono adeguato alla carica e alla cura di tutte le tipologie di batteria. Questo permette di aumentare l'efficacia delle batterie, la loro efficienza e la loro longevità.